Ricorre l'ottavo centenario della presenza dei frati minori francescani sul colle di Santa Maria di Scotaneto, conosciuto oggi come Santuario del Beato Sante. Considerate che il Santuario del Beato Sante è il primo convento fondato dai frati francescani nella Diocesi di Pesaro. Quando era ancora in vita San Francesco, il nucleo originale nel quale ci troviamo fu eretto nel 1223. Oggi quindi sono 800 anni che viene celebrato il Beato Sante di Monbaroccio, uno dei luoghi più belli in assoluto della nostra provincia e fatecelo dire, forse anche dell'intera regione Marche. Siamo qui con le nostre telecamere per testimoniare questa festa, per raccontare questa giornata meravigliosa che si svolge peraltro in una condizione climatica davvero eccezionale. Domenica 23 luglio, 800 anni del Beato Sante a Monbaroccio. Perché 800 anni fa non era Beato Sante, ovvio, ma era Santa Maria di Scoltaneto. Era una chiesetta che i francescani gradivano sempre queste chiesette e poi piano piano ci hanno costruito il convento. Ma 100 anni dopo il Beato Sante bussa alla porta di questo convento già c'era la chiesa, c'era il refletto, già i frati in 100 anni avevano fatto delle costruzioni. Lui aveva bussato qui perché aveva avuto un incidente, un giovanotto giocando con le spade aveva ferito un amico e da quella ferita era morto. E quindi lui si era talmente dispiaciuto che ha bussato e ha voluto fare i mestieri più umili del convento. La questua, la porta, che era molto pericolosa a quel tempo, e la cucina. E con queste attività ci è diventato Beato. Vedo tante emozioni intorno a me da parte di tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo magnifico evento. Le forze dell'ordine, le associazioni, il territorio, il mondo dell'imprenditoria, tutti a fianco a noi dell'amministrazione, tutti a fianco e mano l'uno con l'altro per arrivare a questa magnifica giornata. Ho deciso di fare il sindaco cinque anni fa passeggiando in questo bosco e oggi sono quasi alla fine del mio mandato in una giornata così importante. Quindi ho iniziato nel santuario e sto quasi per finire il mio mandato all'interno di questo santuario che mi riempie ogni volta di emozione. Immaginare questi frati che portavano il messaggio evangelico di Francesco D'Assisi con umiltà nella povertà e il loro stile di vita sicuramente ha segnato il loro messaggio, ha segnato la cultura di un intero popolo e poi questo rapporto e questa presenza è continuativa per 800 anni. Quindi immaginiamo quanto questo abbia inciso nel modo di vivere, nel modo di pensare, nello stile di vita di generazioni e generazioni. Tutti sappiamo un po' del calo numerico vocazionale, l'invecchiamento diciamo anche del clero e allora noi attraverso anche questo evento, perché no, desideriamo, ci auspichiamo davvero di cuore che possa ripartire, essere un segno di ripartenza, di rifioritura, di rinascita, non solo della struttura architettonica, fisica, che d'altronde è già bellissima, quando della vita fraterna nostra, della vita dei frati minori. 800 anni, pensate quanti frati sono passati in questo convento, pensate quanto servizio hanno reso alla nostra comunità, che bel dono. e penso che questo debba essere trasmesso anche a noi, a noi civili, a noi comuni immortali. Dobbiamo imparare a donarci, a donarci sempre di più, perché il dono è la cosa più grande che possiamo dare e secondo me ci fa anche sentire meglio.